Cosa rispondo? Siamo partiti bene, era paradossale aver finito il primo tempo 3-0, ogni volta che ci vengono giù e ci fanno gol, purtroppo è inspiegabile, anche oggi la squadra era partita bene, era partita con grandi motivazioni, abbiamo sfiorato più di una volta qualche occasione da gol lì davanti, non potevo dire nulla ai ragazzi, il problema è che ogni volta che prendiamo gol ci squagliamo, ogni volta che si prende gol sembra un KO e poi facciamo fatica a rialzarci, ancora una volta oggi con una squadra forte con il Benevento abbiamo buttato al vento alcune cose che avevamo preparato, è un momentaccio nero, difficile, complicato, ma bisogna tirarsi fuori con i denti e bisogna tirarsi fuori. Adesso la cattiveria, perché non c'è cattiveria? Non c'è una spiegazione, noi ci alleniamo per fare sempre il massimo, ci alleniamo sempre super aggressivi e poi a volte ci riusciamo, a tante altre volte no e quando non lo siamo subiamo troppo le azioni da godele avversari e ci entrano molto facili, e quindi questo è quello che manca a questa squadra e dobbiamo assolutamente ritrovare questa compattezza. Assolutamente sì, è facile dire dopo la partita perché si fa quelle cose, bisogna provarle sulla pelle, io ho fatto la formazione migliore e nei primi 15 minuti credo di aver avuto risposte importanti, poi è successo qualcosa di spiegabile, ripeto, ma Bruno mi serviva lì, aveva 4 centrocampisti e dovevo girarli in 3 giornate, dovevo dare minutaggio a tutti, perché non tutti potevano giocare 3 partiti di fila e quindi ho fatto girare un po' il centrocampo, quindi la rifare tranquillamente. Non vedo che sia stato quello il problema oggi del Pescara, chiunque mettevi lì secondo me poteva darti qualcosa in alcuna fase e non darti altre nell'altra fase, quindi lo rifarei tranquillamente, non l'ho fatto entrare perché eravamo già sul 4 a 0 e ho preferito dare spazio ai giovani, oggi avevamo 4 ragazze della primavera e quindi oggi abbiamo alla fine su 4 a 0 preferito fare entrare il giambò. La situazione se ne esce nel senso che dobbiamo trovare l'antivirus, così come tutto il mondo sta cercando l'antivirus per queste morti delle persone, e quindi anche noi dobbiamo trovare l'antivirus, quell'antivirus che ci permetterà di tirarci fuori da questa situazione non bella, non facile. Per quanto riguarda le mascherine abbiamo cercato di dare un senso, è un segnale, perché oggi veramente è stranissimo il fatto che noi abbiamo detto di aver avuto 13 casi di influenza, non ci hanno fatto fare i tamponi, questa negligenza e questa superficialità, fino a quando poi non toccano le persone direttamente, è normale che sia questa superficialità nelle cose. Quindi abbiamo cercato di dire, guardate che il problema c'è e forse si sta anche sottovalutando. Non potevamo fare altro perché non ce lo permettevano e quindi abbiamo fatto il minimo che potevamo fare, quello di dare un segnale a tutti che noi avevamo altre priorità e la priorità era la vita. Si sospenderanno i campionati, secondo me se loro andranno a capire bene quello che poi succederà fermando il campionato per tre settimane e quindi non si potrà più riprendere in maniera normale, è giusto che sospendino tutto ed è giusto che così come finisce il campionato adesso si riprenda l'anno prossimo. Credo che nessuno avrà problemi a dire sì chi ama la vita, poi chi ama il denaro dirà sicuramente qualche altra cosa, ma chi ama la vita sarà d'accordo che se anche per tre mesi, quattro mesi non c'è un campionato di calcio non succederà nulla, anzi avremo la possibilità di curarci, avremo la possibilità di aiutare tutte le persone che oggi sono in difficoltà e qualcuno ha perso anche dei cari e quindi dobbiamo essere molto solidari con questa gente.